Benvenuti ragazzuoli, qui è Dalkan che parla. Allora, seguendo alcuni commenti mi sono reso conto di alcune cose, cioè che alcuni di voi, essendo nuovi del titolo, hanno davvero voglia di scoprire cosa bisogna fare e come prepararsi soprattutto a una stagione che arriva in Diablo 4. La mia intenzione è quella di raccontare un po' il gioco in generale, quindi facendo vari video. Fatemi sapere sotto nei commenti se questa cosa può esservi utile. Per esempio, questo video partirà come iniziare la stagione 4 di Diablo 4. Ecco, come essere preparati a tale stagione. In più, vorrei fare vari video anche per quanto riguarda il nuovo Endgame, che quando ovviamente lo avremo sotto mano li potremo fare con più calma per farvi vedere tutto quello che come funziona. E in più, altri video che vanno a spiegare il gioco, nello specifico, in comparti stagni, in modo tale che possiate avere un pochino tutte le informazioni che vi servono, soprattutto con un gioco che è stato aggiornato recentemente. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti per sapere se qualcosa di questo genere potrebbe interessarvi. Nel frattempo iniziamo sul come prepararsi per questa stagione 4. Allora, inizialmente la cosa da fare è avere uno slot disponibile, guarda un po', per il vostro personaggio, perché purtroppo ci sono soltanto 12 scomparti, quindi se doveste averli tutti occupati ovviamente non potrete fare il nuovo personaggio. Una delle cose che vi consiglio di fare assolutamente, se non l'aveste già fatto, per i giocatori che stanno iniziando adesso ma che hanno giocato anche una stagione precedente, quindi hanno raccimolato un bel po' di roba, è quello di andarsi a recuperare la propria roba. Perché ragazzi, il gioco permette di ottenere questi oggetti per molto tempo, ma arrivato a un certo punto vi eliminerà il tutto. Ora, io l'ho già fatto su alcune cose quindi non lo vedrete. Praticamente qui sulla sinistra, come forziere, prima del forziere 1, troverete un'altra casella. Quella è la casella che vi permetterà di recuperare tutta la roba e metterla nel vostro forziere. Fatelo perché altrimenti, arrivato a un certo punto, quando inizierà la nuova stagione, andrete a perdere qualunque cosa. Allora, iniziamo creando un nuovo personaggio. Quello che io vi consiglio è di farlo fondamentalmente stagionale perché avrete tutte le varie feature che il gioco implementerà con la nuova season. In questo caso un'itemizzazione diversa, in questo caso questa nuova progressione che avremo. Creando questo nuovo personaggio facciamo conto che volessimo fare un rogue e chiaramente andremo a scegliere maschio o femmina, andremo a personalizzarlo come più ci piacerà. Finito di farlo, noi verso la fine andremo a scegliere se utilizzare un personaggio hardcore, che non vi consiglio di fare se siete alle prime armi perché una volta morto il personaggio andrà a essere totalmente eliminato, quindi lo troverete nel cimitero degli eroi. Il salta campagna è previsto soltanto per coloro che la campagna l'hanno già giocata, quindi in questo caso voi non lo vedrete nemmeno. Parlo dei nomi giocatori. Andiamo a mettere un nome per questo personaggio, la chiamiamo magari Emy. Avviamo la nostra partita. Il gioco ci chiederà se giocare appunto nel regno stagionale dove dice questa modalità offre nuovi contenuti che si aggiungono alla normale esperienza di gioco. I contenuti stagionali si svolgono dopo aver completato la campagna. Quindi chiaramente dovremmo prima aver giocato la campagna per poter usufruire del regno stagionale. Questo è il regno eterno. Cos'è il regno eterno in Diablo 4? Ogni 3-4 mesi finisce una stagione e il vostro personaggio verrà portato così com'è nel regno eterno. Questo regno eterno però purtroppo non ha molti vantaggi perché poi alla fin fine si faranno sempre le stesse cose, non verrà mai modificato più di tanto. Quindi quello che io vi consiglio è semplicemente giocare nel regno stagionale. Continuiamo. Abbiamo livello del mondo 1 o livello del mondo 2. Ora, che voi siate alle prime armi o che siate diciamo dei giocatori più veterani, io a prescindere vi consiglio di giocare veterano 2. Perché vi dico questo? Perché di base dà una grossa mano con il discorso dell'esperienza. L'esperienza è fondamentale nel gioco perché vi permetterà di salire di livello uscitando i mob, oltre al fatto che i mostri forniranno il 20% di oro aggiuntivo. È vero che la sfida sarà un pochino più impegnativa, ma non a tal punto da giocare ormai ad avventuriero. Non credo che nessuno oramai vorrà mai giocare ad avventuriero. Se voleste farlo non ci sarebbe nulla di strano, semplicemente sarete soltanto più lenti a livellare. Ma nel caso potreste anche abbassare la difficoltà in qualsivoglia motivo durante la campagna stessa. Quindi nel caso doveste avere particolari problemi con un boss o con degli elito o quant'altro, a quel punto potrete cambiare soltanto per quel momento per poi riswitchare a veterano. Quindi facciamo conto adesso di voler giocare a veterano 2. Avviamo la nostra partita, beh anzi partiva da solo. Cosa succede? Vabbè, vediamo il filmato principale, anzi noi lo schippiamo. Una volta fatto ciò ci troveremo direttamente alla nostra campagna. Questo è come si presenterà l'inizio di Diablo 4. Questo principalmente è per creare un personaggio, quindi ritrovarsi in una certa condizione. Se potete saltate la campagna. Ma quindi come facciamo a prepararci? Come facciamo ad avere tutte quelle cose che ci permetteranno di essere già pronti per affrontare la Season 4? Perfetto, ve lo dico subito. Semplicemente premerete Tab. Premendo Tab voi noterete nella mappa qualcosa di particolare. Ovvero questi. Gli altari di Lilith. Che cosa sono gli altari di Lilith? Semplicemente ragazzi sono dei, appunto, altari che vi permetteranno di avere un boost permanente di un qualcosa. Facciamo conto adesso che volessi sbloccare questo altare perché normalmente sono molto nascosti, quindi difficilmente li troverete a colpo. Quello che dovrete fare è andare nel punto preciso dove si trova l'altare, in questo caso si trovava qui, per avere questo boost permanente. Che può essere, che ne so, intelligenza in più, può essere magari forza o quant'altro. Ma molto importanti sono gli altari, quelli che vi permetteranno di avere i punti Paragon. I punti Paragon, datoci dai nostri altari di Lilith, quelli più importanti, saranno, se non sbaglio, 5. Perché adesso non ricordo perché l'ho fatto a inizio gioco. Gli altari di Lilith dovrete prenderli tutti e vi converrà a farlo perché vi aumenteranno, appunto, queste statistiche di base. Quindi la forza, l'intelligenza, la volontà e la destrezza e quant'altro. Quindi vi permetterà di essere efficienti. Di conseguenza, fatto una volta, non dovrete farlo mai più. È una di quelle cose che io ritengo fondamentali per poter avere un boost continuo e permanente con il vostro personaggio. Un'altra delle cose fondamentali, ragazzi, è sempre premendo Tab e anche poi successivamente W, ovvero visualizzare le tue ricompense, che sarebbero queste qui. Vi spiego come funziona. Questa è semplicemente la fama ottenuta. Come si ottiene la fama in Diablo 4? Ragazzi, crocevia, roccaforti, quindi liberarle, missioni secondarie, le aree scoperte, quindi della mappa, fare appunto delle espedizioni, quindi i dungeon secondari e degli altari di Lilith. Facendo tutto questo discorso, voi guadagnerete punti fama. I punti fama vi permetteranno di avere punti abilità, capacità pozioni, altri punti abilità, oboli massimi, quindi per poter aumentare i vostri oboli, e addirittura 4 punti eccellenze, quindi punti paragon di cui vi parlavo prima. Fatto ciò, quindi per ogni regione, alla fine otterrete tutto questo, cioè io in questo momento, anche se vedete 180 di 400, in realtà sono tutte sbloccate, poiché l'ho fatto una volta con il mio personaggio, e poi non ho più dovuto rifarle. Quindi molto importante avere tutto bello che è sbloccato prima di iniziare la stagione, quindi magari potrete fare anche un giretto prima, dato che attualmente c'è abbastanza tempo per poterlo fare, per poi ritrovvi tutto pronto. Altrimenti potreste iniziare la stagione e farlo di conseguenza, anche perché comunque la stagione dura almeno 3 mesi e tutto il tempo a disposizione ce l'avrete per poterlo fare, quindi potrete unire l'utile al dilettevole. Faccio sempre una rapida panoramica per chi non conoscesse il gioco, giusto per dare informazioni aggiuntive per affrontare questa season, se invece voleste dei video proprio dedicati a tutto ciò, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi raccomando, perché potrebbe essere utile ovviamente alla community che sta iniziando a giocare adesso, più che altro per coloro che stanno iniziando, ma invece per i veterani, vi ripeto, faremo anche un video successivo una volta iniziata la season 4. Cosa potrebbe servire ai nuovi giocatori? Beh, dovete sapere che una cosa importantissima per la stagione è quella di crearvi tutto ciò che vi potrà servire per migliorare la vostra esperienza, perché gli Elisir vi permettono di avere esperienza, quindi una volta preso un Elisir, quindi prese tutte le varie erbette, che poi questa storia comunque probabilmente adesso andrà a modificarsi con la season 4, ma l'andremo a vedere poi successivamente, vedete un po' il 5% di esperienza ottenuta ovviamente creando gli Elisir. Un'altra cosa che potete fare è anche creare degli Incense, stessa cosa, vi permetterà di avere altri 5% di esperienza aggiuntiva. Sappiate anche che vi permetterà la season di poter avere delle benizioni stagionali, tra le quali abbiamo anche l'aumento dell'esperienza. Questa la otterrete grazie alle ceneri fumanti datovi nel Battle Pass, che sarebbe questo. Non avete bisogno di fare quell'appagamento perché il gioco non essendo pay to win vi permetterà di prendere sempre gratuitamente queste ceneri che poi andrete a inserire proprio qui dentro nelle benizioni. Ovviamente il mio consiglio è quello di inserire prima quello dell'esperienza per poter salire di livello e poi in base a quello che la stagione vi darà, perché ovviamente ogni stagione è diversa. Potrete anche aggiungere quella dei Forzieri, quella delle probabilità dell'oggetto aggiuntivo almeno leggendario dei Forzieri della Mare Inferna. Insomma ci sono varie, l'altra stagione erano differenti, quindi poi quello andremo a vederlo nel dettaglio una volta che avremo iniziata la season. Quindi cosa sappiamo per adesso? Come creare il nostro personaggio stagionale? Quello che bisogna fare prima del personaggio stagionale, quindi prendere tutti gli altri Lilith e cercare di scoprire ovviamente più mappa possibile, fare tutte le missioni secondarie e cercare di aumentare la nostra reputazione per poter avere poi alla fine i nostri punti Paragon, quindi i nostri punti Eccellenza, che ci permetteranno di migliorare complessivamente il nostro personaggio. Quello che vi consiglio generalmente, soprattutto in questa season, ma naturalmente faremo un video magari al riguardo, è di incominciare a giocare nelle Mare Infernali. Che cosa sono le Mare Infernali per chi ancora non avesse iniziato a giocare a Diablo? Questi luoghi dove la mappa praticamente diventa tutta rossa, noi uccidendo i mob in questa zona, quello che andremo a fare è recuperare praticamente questi braci avverranti che ci serviranno principalmente per aprire dei forzieri e poi ovviamente nella nuova gestione appunto del leveling e soprattutto della progressione generale del personaggio ci daranno possibilità maggiori, cioè il fatto adesso di avere eventi particolari che faranno spawnare nemici particolari e questo ci permetterà di avere maggiore esperienza. Ma principalmente servono anche ad aprire dei forzieri che ci daranno la possibilità di evocare dei boss per poi andare a farmare appunto i nostri uber leggendari anche se da questa season anche altri boss avranno la possibilità di droppare certi oggetti di questo genere. Quello che io vi consiglio quindi è di fare le Mare Infernali per poter aprire tutti i forzieri adatti. Ho fatto un video anche a riguardo che vi spiega come fare, andatelo a cercare direttamente sul canale. Un'altra cosa che vi consiglio caldamente è che a prescindere se siate nuovi giocatori o vecchi giocatori è quello di andare praticamente a fare questi dungeon. Questi dungeon vi daranno degli aspetti, gli aspetti sono fondamentali nel gioco perché come funziona? Praticamente vedete che abbiamo la possibilità in arancione, le abilità in base forniscono una riduzione di danni del 20% per 4 secondi. Ecco, questo è un aspetto, quindi è un potere che abbiamo inserito. Questi poteri ci vengono dati principalmente da questi dungeon. Questi dungeon, quindi una volta completatoli, avrete la possibilità di ottenere nel vostro codex del potere questi aspetti da poter inserire nel vostro gear. Fatto ciò, voi sarete abbastanza preparati per quello che dovrete fare. Io vi consiglio di andare a prendere quelli più importanti, tra i quali abbiamo quello della possenza, che dice che le abilità base forniscono una riduzione dei danni del 20% per 4 secondi, perché una riduzione dei danni è una riduzione dei danni generale. Questo vi permetterà di poter resistere e poter fare tutto ciò che volete fare, soprattutto durante il vostro capstone dungeon. Oppure quello del juggernaut, dove otterremo un tot di armatura, ma il tempo di recupero di elusione aumenta del 100%. L'elusione non è altro che la nostra possibilità di schivare, quindi premendo appunto barra spaziatrice o dove avete messo il tasto per poter schivare. Quindi raddoppierà questo tempo di recupero. Un'altra cosa molto importante, per esempio, sono, in questo caso io utilizzo lame serpeggianti, quindi twisting blades, di andare a prendere anche questo aspetto. Oppure c'è anche l'aspetto della disobbedienza, che in questo momento non ce l'abbiamo, il classico disobbedience. Se volete anche una guida specifica su dove prendere ogni aspetto, potremmo andare a fare anche quella. Vi ricordo poi di andare a fare subito la vostra missione principale per quanto riguarda la classe, quindi la missione di classe, che vi permetterà di poter sbloccare i vostri poteri al massimo potenziale. Quindi non scordate il fatto di farla solo perché state livellando, ma fatela più presto possibile per evitare appunto di perdere molto, ma molto tempo poi successivamente. Un'altra cosa che potrete fare magari con l'aiuto di un amico è quello di andare a sbloccarvi la maggior parte dei teleport. Se qualche vostro amico magari è riuscito a sbloccare un teleport un pochino più lontano rispetto a voi, voi potrete semplicemente teletrasportarvi su di esso e quindi di conseguenza vi sbloccherà l'altro teleport. Questo è molto utile per velocizzare le cose, se voleste appunto farle un attimino più veloce rispetto al solito. E chiaro che la nuova stagione vi offrirà contenuti particolari e diversi, quindi vi consiglio di fare anche quelli quando arriveranno, perché vi serviranno per ottenere dei materiali specifici per fare quello che la stagione stessa vi sta indicando di fare. La missione della stagione andrà fatta perché vi porterà sicuramente ad ottenere quei poteri che probabilmente in questa stagione forse non ci saranno, ma vedremo. Ma comunque fate prima la stagione principale rispetto a pensare al leveling in generale. Se siete nuovi giocatori, come vi dicevo, partite dalla campagna, altrimenti potrete semplicemente skipparla e andare direttamente nella parte Seasonal, che è la cosa che conviene sempre fare. Ci sarebbero davvero tantissime cose ancora da dire, ma non voglio far uscire un video troppo lungo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voleste dei video specifici e per cosa. Se vi serve un video sull'endgame, sul nuovo endgame che arriverà, se vi serve in generale un video sull'endgame che attualmente c'è su Diablo 4. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti tutto quello che vi serve, perché naturalmente sapete che questo canale è pieno, strapieno, pieno zeppo di guide su ogni tipologia di cosa di Diablo 4. Quindi fatemi sapere voi stessi cosa vi può interessare. Se questo video vi fosse piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio l'alcine è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!